Don Franco, saluti, buongiorno, ben trovati sotto questo magnifico cartello che la tua comunità mi ha preparato per santificare questi 50 anni di sacerdoti. Noi come Positano News ci siamo permessi in due righe di dire che questo è Frank Rauppel, è una straordinaria famiglia che ha prodotto tante personalità, senza farne l'elenco, ma nella penisola sorrentina c'hanno il loro peso, ci dici le tue impressioni nel giorno del cinquantesimo? Un'emozione, una gioia, è un senso di grazie di uno, assolutamente, di a chi mi accompagna. Che progetti c'hai per questa comunità? Perché da qui partiamo, non arriviamo, questo è un punto di partenza. Un punto di partenza dopo i 50 anni, ci auguriamo di fare ancora un po' di più. Che sia una giornata intensa, tra l'altro stiamo aspettando anche Monsignor Sanchez-Claffat, importante. Abbiamo visto le vostre immagini di quando inginocchiato avete ricevuto l'impositura delle mani da parte Monsignor Pellecchia. Viste di profilo, il vostro profilo non è cambiato, qualche capello in meno. E qualche chilo in più. I nostri auguri, i nostri amici. Grazie. 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 Grazie.